Io sono qui perché mi servono della roba quindi niente ho appena finito di fare spesina diciamo per il progetto della borsa strafiga niente il prototipo bianco perché non hanno il colore nero quindi mi devo contattare del bianco ho appena finito fare spesa voglio provare tantissimo quella cosa lì tolgo la musica perché sennò copio direct pizza abbiamo fatto spesina pop corn pop corn chiacchiere al cioccolato succo nel mango che stradoro 5 euro bene 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 appena finito di sfornare sta bella cosa ho assaggiato un angolino ed è veramente la fine del mondo è veramente la non farò un video a riguardo tutto quanto è la fine del mondo la fine del mondo è buonissimo raga è buonissimo basta prossima fermata miami beach il mio polso l'ho sentito fare i crack mi sono preoccupato un pochetti prossima fermata grassopio stiamo andando a mangiare a fare merenda al kfc così almeno la posiamo lo sconto per pagare di meno a parte che scusate adesso mi metto la vi voglio far vedere come questo bellissimo tramonto mi metterò a focussare e scusate se ballo tutto quanto ma non ho tipo nulla per bilanciare quindi faccio i cerchietti ok ora che ci siamo possiamo appoggiarci al vetro bilanciare il colore ed eccoci qua con un bel tramonto l'accendiamo la spagniamo la balziamo tutte quelle cose lì bilanciare un pochettino per farlo uscire bene così credo che sia perfetto perfettissimo così perfetto e ho preso sempre il solito basket con patatine e condimenti extra e niente si mangia ciao ciao pepsi oggi voglio oggi voglio cambiare pepsi poi c'ho andato degli sconti ulteriori non so e abbiamo anche la tessera che non mi ricordo dove ho messo e qua qua sotto che buono allora prima di continuare il dkpm vi dico una piccola cosa stavo controllando le schedine quelle vecchie che usavo prima e perché adesso non uso una nuova recentissima ok stavo controllando le vecchie schedine e all'improvviso la prima è andata la prima non c'è niente di chissà cosa alla seconda invece c'è cose importanti perché io avevo registrato un episodio di kym a gardaland non è che avevo chissà quali riprese però quel poco che ho fatto me lo sono dimenticato quindi ve lo beccate adesso ciao vi informiamo che l'attrazione sta per iniziare il giro panoramico grazie per la vostra collaborazione ora potete alzarvi buon divertimento grazie per la vostra collaborazione ora potete andare bene Enjoy the fun! ehi ragazzi guardate la mia dignità sta affogando guarda qua guarda quella parte lì della giusta fiamma ancora guarda quella parte lì della giusta fiamma ancora non c'è padre se non dice lì si chi non la mi piace e si chi non c'è anche un suo sennaro ecco che non ada lì efe ma io voglio un buon giorno alla Grazie a tutti. Grazie a tutti. Venerdì, primo marzo, 8.08, stiamo andando al cinema. E anche oggi Oreo con Grulli Dragon Ball Super.